buona la partenza rapida all'uscita lieci e pagliarini e netta la pagliarini 7 62 hai fatto una bella gara insomma come sono queste ore dopo questo bel risultato come le stai vivendo per me diciamo è normale perché alla fine sì ho fatto un buon tempo non è cambiato cioè niente vivo la mia vita normalmente con questa cosa in più che sono la prima in italia la prima al mondo quindi è una bella sensazione tu ti alleni abbastanza insomma quindi insomma te lo aspettavi questo risultato così era nell'aria come e allora sinceramente non mi aspettavo di scendere così tanto cioè io mi sono sempre impegnata e quindi un po mi aspettavo di migliorare ma non così stamattina qualcuno ti ha detto qualcosa i tuoi amici come ti hanno accolto per questo bel risultato i miei professori mi hanno fatto i complimenti e anche i miei compagni di classe mi hanno detto cioè sei fortissima mitica sei grande sei fantastica complimenti e adesso hai continui tuoi allenamenti hai però dei insomma davanti a te un bel calendario intenso quali sono i prossimi le prossime gare che affronterai la prossima gara è una rappresentativa marche oppure ad ottobre ci saranno i campionati italiani quindi ho tutto questo tempo per prepararmi e andare lì e dare il massimo però aver fatto un così bel risultato ti dà più sicurezza ti fa sentire più sicura di te delle tue potenzialità come emotivamente come come ti sembra sì cioè che se io continuo a credere in me nelle mie qualità in quello che posso fare so che posso migliorare sempre di più lo vuoi dedicare a qualcuno questo bel risultato a mio mamma e mio papà perché a merito loro ciao 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 ciao